ciao fragolini nuovo video questa volta vi faccio vedere come pulire la lavatrice lg ovviamente come la pulisco io e il mio metodo di come pulirla comunque prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico se volete lasciatemi un like un commentino qua sotto come la pulite voi e se volete seguirmi su instagram vi lascio il mio instagram in tutti i video che io pubblico e ovviamente anche nelle schermate niente vi lascio il video e buona visione ciao allora vi faccio vedere come pulisco io la lavatrice lg per prima cosa ovviamente si pulisce il sopra io uso lo sgrassatore per cui con la spugna ciao 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 dopo aver fatto il sopra praticamente facciamo anche il torno qui dove sporco e ovviamente l'oblo per cui per cui lo sopra ciao e poi puliamo anche il fuori e poi puliamo anche il fuori ciao 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 ok dopo aver pulito tutta fuori la lavatrice l'ho asciugata con un panno adesso la puliamo dentro all'oblo allora questa ha già la pulizia per cui non lo faccio io ma lo fa la lavatrice vi faccio vedere come si fa è semplicissimo allora l'accendiamo qui c'è scritto pulizia vasca si preme per tre secondi e quando viene questo segno praticamente così noi dobbiamo ovviamente chiudere così almeno di pulisce dentro tutto per bene ovviamente la faccio a partire ci vuole un'oretta quando ha finito vi faccio vedere il risultato per cui per pulire la vasca dentro è semplice fare così io la pulisco così perché ovviamente senza metter detersivo senza mettere niente si pulisce da solo perché è già dentro praticamente per cui l'accendiamo la facciamo andare ci vuole un'oretta adesso non mi ricordo più o meno la pulisce per cui quando ha finito vi faccio vedere un'ora e 23 quindi Grazie a tutti. 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 Pensavo che era vuota, invece no. Comunque, questa è la pulizia. Ovviamente è tutto pulito perché lo fa automatico da solo. E questa è la pulizia di un'ora e venticinque, un'ora e ventitré. Comunque, quando finisce di pulire, ovviamente si spegne da sola. E' facilissimo, comunque basta solo accenderla, schiacciare questo qua dove c'è scritto pulizia vasca per tre secondi e poi ovviamente chiudere l'oblò, questo qua, e ovviamente fare play e va. Poi quando finisce di pulire da sola, praticamente io questo qua lo faccio una volta al giorno. Certo, certe volte lascio andare, faccio due volte a settimana la pulizia della vasca e ovviamente si pulisce anche il filtro che è quello sotto. Ogni tanto pulisco anche il filtro, comunque questa diciamo che è la pulizia che faccio per la lavatrice. Questo era come io pulisco, diciamo, la mia lavatrice. Se per caso avete visto la schiuma, è perché ovviamente c'è troppo detersivo. Però, vabbè, se questa cosa la pulisco praticamente sempre, ogni giorno, io pulisco sempre la lavatrice in la, diciamo, la vasca, la pulisco sempre. Usando le pastiglie, giustamente, e avendo tanta roba, giustamente si forma tanta schiuma. Comunque non c'è problema perché poi alla fine con il lavaggio della vasca, eccetera, ritorna tutto normale e poi la schiuma non c'è più. Infatti dopo tanti risciacqui non c'è tanto detersivo. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere come la pulite voi, se avete anche voi questo sistema in cui è compreso dentro la vostra lavatrice, come vi ho fatto vedere. Spero che ho detto tutto. E niente. Come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Lasciatemi un like e un commentino qua sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!